Il consiglio approva la revoca della commissione speciale sui vaccini. Sarà la commissione d'inchiesta ad occuparsi della gestione della pandemia. La consultazione pubblica in vista degli stati generali della salute proseguirà fino al 31 agosto. Il presidente dell'Assemblea, Antonio Mazzeo, invita Toscane a fare proposte per disegnare insieme la sanità del futuro. Il progetto del Parco Policentrico con l'Odi Pinocchio prende forma. La Fondazione Nazionale, intitolata all'autore del celebre romanzo, acquisisce lo storico giardino di Villa Garzoni, la casa delle farfalle e altri terreni. Revocata la commissione speciale sui vaccini. Il consiglio regionale ha votato all'unanimità la revoca della commissione speciale per il supporto, il monitoraggio e controllo della campagna vaccinale per la prevenzione delle infezioni da Covid-19. La delibera è stata portata al voto dell'Aula dopo la recente istituzione della commissione d'inchiesta finalizzata alla verifica del corretto svolgimento delle misure messe in atto dal sistema sanitario regionale per contrastare la pandemia da Covid-19, in particolare della campagna vaccinale in Toscana. La commissione speciale, istituita nel mese di aprile, non ha mai eletto l'ufficio di presidenza, raggiungendo il termine di scadenza lo scorso 3 luglio. Il presidente della commissione sanità, Enrico Sostegna, ha ricordato che la maggioranza ha fatto tutto quello che era possibile per far partire quella commissione voluta da una forza dell'opposizione, ha dato piena disponibilità e rispettato tempi e procedure. Ora possiamo comunque dire che le difficoltà maggiori nella pandemia si sono registrate quando la quantità dei vaccini era insufficiente e ha aggiunto. È accaduta una cosa un po' strana, l'opposizione con otto firme può chiedere la commissione d'inchiesta, aprile scorso su richiesta della Lega, quale noi abbiamo dato seguito, è stata istituita invece una commissione speciale per seguire l'andamento della campagna vaccinale. Il Partito Democratico ha dato subito i membri che dovevano farne parte, soltanto per ritardi legato all'opposizione, la prima commissione è stata fatta solo all'insediamento all'inizio di maggio e lì non c'è stato l'accordo dell'opposizione sulla nomina dell'ufficio di presidenza. Non hanno votato l'ufficio di presidenza, quindi generando poi l'obbligo di andare in via provvisoria, di un'ulteriore nomina, anche lì abbiamo riconvocato poi l'ufficio, io sono stato nominato presidente provvisorio e anche lì ovviamente i candidati si sono astenuti dalla votazione e non c'è stata la possibilità. Quindi il tema è che c'è stata una contrapposizione fra Fratelli d'Italia e la Lega sulla scelta dello strumento sul quale evidentemente poi è venuto fuori questa contrapposizione che ha portato a nulla. Sono stati persi 90 giorni facendo una bruttissima figura come istituzione, ha dichiarato Diego Petrucci di Fratelli d'Italia. La condivisione sulla commissione d'inchiesta può esserci ora che lo scenario è completamente cambiato, ha replicato la capogruppo della Lega Elisa Montemagni. Il tempo della commissione speciale che avrebbe potuto essere di supporto in una fase in cui la vaccinazione in Toscana andava a rilento è passato, ha detto Montemagni. Oggi in Consiglio regionale è andata in scena una farsa, nel senso che il Consiglio regionale ha revocato la commissione speciale sui vaccini che era stata istituita ben 90 giorni fa perché fino ad oggi soltanto col voto contrario di Fratelli d'Italia nacque questa commissione e non sono riusciti ad eleggere il presidente e quindi è stata sposata da tutto il Consiglio regionale la nostra proposta di fare una commissione d'inchiesta su la pandemia e sui vaccini. Perché? Perché noi riteniamo che ci sia bisogno di aprire un focus importante su quanto è successo nei mesi scorsi, in particolar modo sulla campagna vaccinale ma in generale sulla gestione della pandemia, perché ahimè la gestione della campagna vaccinale della regione toscana è stata alla ribalta del palinzesto nazionale delle tv e dei giornali italiani perché ci sono stati personaggi molto noti che in Toscana hanno avuto corsie preferenziali nell'accesso al vaccino in maniera appunto con scorciatoie non molto trasparenti, perché riteniamo che su tutto questo si debba far luce. Non vogliamo processare nessuno, non vogliamo processare nemmeno l'assessore Bezzini che ha avuto una gestione pessima della campagna vaccinale senza mai dare l'idea di avere la consapevolezza di quello che stesse succedendo intorno a sé, dando numeri che venivano smentiti l'indomani da lui stesso. Non vogliamo processare nemmeno il presidente Gianni che altrettanto sia smentito e contraddetto in continuazione durante questi mesi creando soltanto confusione, caos e insicurezza nei confronti dei cittadini. Però vogliamo capire che cosa è successo. Intanto noi quella proposta l'avevamo fatta pensando che una commissione speciale fosse utile per portare un contributo da parte anche dell'opposizione, ma voglio dire di tutto il Consiglio, ai lavori che erano stati programmati dalla Giunta sul piano vaccinale e che non procedevano come i cittadini si aspettavano, anzi non procedevano per niente. Sappiamo che siamo stati all'ordine del giorno e sulla cronaca nazionale per settimane con le vaccinazioni di tardo degli over 80, con chi si è vaccinato e non si doveva vaccinare, non aveva diritto. Noi pensavamo di dare un contributo. Quindi la nostra proposta andava in quel senso. È evidente che bisogna avere idee e bisogna metterci la faccia quando uno vuole dare un contributo. Quindi io ritengo che quella fosse da parte nostra una scelta estremamente responsabile. Poi però la maggioranza, che aveva la maggioranza in quella commissione, non ha deciso che non avrebbe votato l'ufficio di presidenza. Sappiamo che ci sono state anche scaramucce all'interno della maggioranza, tra l'Italia Viva e il PD, che sono note. E quindi si è arenata praticamente subito. E oggi, che non è più il tempo della commissione speciale, perché la campagna vaccinale ha proseguito e quindi molti dei nodi sono stati snodati, secondo noi nemmeno benissimo, siamo arrivati al punto che è diventata più opportuna una commissione d'inchiesta. Quindi, convintamente, abbiamo firmato la commissione d'inchiesta e procederemo con quella per far luce su tutto quello che non ha funzionato. C'è un tempo per tutto. Ieri era il tempo della commissione speciale. Oggi è il tempo della commissione d'inchiesta. La maggioranza ha potuto scegliere, le minoranze no, ma mi fa piacere che oggi parta la commissione d'inchiesta e non soltanto sul piano vaccinale, ma sulla gestione totale dell'emergenza coronavirus, ha affermato il capogruppo di Fratelli d'Italia, Francesco Torselli. Il voto dell'Aula sulla revoca della commissione è un atto dovuto, ha detto il capogruppo del PD, Vincenzo Ceccarelli. Ci siamo trovati di fronte a una situazione abbastanza surreale. Abbiamo aderito a una proposta di una forza di minoranza per la sua istituzione, ma coloro che l'avevano proposta non hanno inteso votare gli assetti per poterla far partire. L'istituzione di una commissione d'inchiesta è stata appoggiata anche dal Movimento 5 Stelle. La mia valutazione è che le cose cambiano con il passare del tempo. Quando una commissione speciale trova tutte queste difficoltà nella fase iniziale, già nell'elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, credo che avrebbe potuto fare ben poco. Per questo, come Movimento 5 Stelle, abbiamo capito che forse era meglio istituire e partecipare alla richiesta di una commissione d'inchiesta, anche perché le difficoltà dell'inizio della campagna vaccinale sono state talmente evidenti e eclatanti che la Toscana è arrivata agli onori delle cronache nazionali. Qui si tratta di capire e stabilire dove sono stati gli errori nella catena di comando. E soprattutto non tanto per accusare o puntare il dito contro qualcuno, ma per cercare di risolvere delle criticità che si potrebbero ripetere in una successiva ondata pandemica. Per Italia Viva non è il momento delle inchieste, ma dell'ingraziamento verso chi si è impegnato e continua ad impegnarsi per portare avanti la campagna vaccinale. Noi siamo stati i primi a chiedere un cambio di passo 5-6 mesi fa rispetto alla campagna di vaccinazione. Questo ci va riconosciuto. Un cambio di passo che c'è stato, attenzioni nuove che hanno rivolto una risposta importante, abbandonato il click day, dato risposta alle categorie che più di altre avevano bisogno. Sono state date risposte in tempi a questo momento certi, abbiamo riscalato i regolatori a livello nazionale, siamo arrivati a vaccinare per i primi ragazzi maturandi. Si sono date risposte importanti, gli hub sono aumentati, le imprese hanno dato risposta e credo ci sia stato un coinvolgimento fattivo del mondo anche del volontariato e della medicina di base. Nel complesso la campagna di vaccinazione, che va detta la verità, non era iniziata bene, poi sta proseguendo bene e quindi a questo punto la commissione speciale, sulla quale anche noi avevamo condiviso il fatto che si potesse far nascere, è stata forse una molla che ha fatto impegnare tutti e meglio. I risultati sono ottenuti. A questo punto da parte nostra il lavoro che potevamo fare è terminato, il lavoro è standardizzato, anzi deve continuare il lavoro dei medici, degli infermieri, perché non è finito e con questo colgo l'occasione per ringraziarli del costante impegno. Quindi credo che la politica faccia bene a portare rispetto a chi poi tutti i giorni negli hub vaccinali ci va, a tutti i giorni che coloro prestano attenzione, operatori, sanitari, infermieri, volontari, medici. Io ho trovato negli hub tanto volontariato e tanti professionisti, molti anche di loro in pensione che stanno dando l'anima anche nei mesi estivi. Quindi io credo che sia il momento non tanto di fare le inchieste quanto di ringraziare chi tutti i giorni fa vaccini. Stati Generali della Salute prosegue fino al 31 agosto la consultazione online. La consultazione pubblica in vista degli Stati Generali della Salute proseguirà fino al 31 agosto. La decisione di prorogare l'apertura del portale è stata presa considerando l'alto interesse manifestato finora da cittadini e portatori di interessi e per allineare la consultazione con l'andamento delle audizioni in commissione. Più di 50 quelle già svolte in commissione sanità, con i direttori ai vertici delle aziende sanitarie e di quelle ospedaliere o universitarie, ma anche con ARS, sindacati, ANCI ed IRPET. L'obiettivo è di arrivare al termine delle sedute programmate con un numero di auditi superiore alle 100 persone. Il calendario prevede anche quattro focus tematici su medicina nelle aree interne, emergenza-urgenza, digitalizzazione e dipendenze. Ad oggi, sul portale dedicato, sono arrivati oltre 100 contributi, in prevalenza cittadini che hanno espresso le priorità di intervento e dato contributi in termini di proposta. I stati generali della sanità sono un momento per noi molto importante, un momento di ascolto, di partecipazione, di confronto e credo che l'obiettivo finale debba essere quello di lavorare ad una proposta che guardi alla sanità del futuro. Una sanità fatta sempre più di investimenti in tecnologia, di investimenti sul personale, della necessità di integrare sempre di più l'ospedale e il territorio. O noi abbiamo la capacità di sapere che tutt'oggi abbiamo ancora tanto da recuperare con le grandi regioni d'Europa, soprattutto dal punto di vista della capacità di investire sul nostro territorio, oppure non svolgeremmo appieno il nostro compito. Quello che noi vorremmo alla fine di questa grande campagna di ascolto è di valutare nel dettaglio come poter modificare la legge che noi abbiamo approvato ormai quasi cinque anni fa, una legge che deve tener conto delle istanze dei professionisti, degli operatori, ma dei cittadini, con un obiettivo. L'obiettivo deve essere quello di saper offrire sempre più lo stesso livello di servizi sia a chi vive nelle grandi città, sia a chi vive nei borghi più periferici della nostra regione. Intorno a questa sfida e alle risorse che arriveranno dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza noi ci giochiamo un pezzo della sanità del futuro. Parco Policentrico Collodi Pinocchio, il progetto prende forma. Il progetto del Parco Policentrico Collodi Pinocchio prende forma. La Fondazione Nazionale, intitolata all'autore del celebre romanzo già proprietaria del Parco Monumentale, ha infatti acquisito lo storico giardino di Villa Garzoni, la Casa delle Farfalle e altri terreni. I Garzoni hanno costruito all'inizio del Settecento questa splendida villa che sta alla base del paese di Collodi, di questo borgo di Collodi, e che invece è apposto ma tutto il resto. Il borgo è nato negli anni Mille, si è sviluppato, poi è arrivato nel Settecento il Conte che alla base ci ha messo questa splendida struttura, questa splendida villa, che è stata riconosciuta, lo dico, dallo Stato italiano nella prima legge che nel 1905 ha fatto per riconoscere quali erano i beni culturali italiani da nominarsi, come si dice, beni nazionali, cioè il vincolo delle belle arti. Nel primo elenco 1905 Villa Garzoni c'è perché ha un elemento artistico di fondamentale importanza, perché uno dei progettisti di quella villa è quello, pensate un po', che poi ha realizzato maggiormente il progetto della reggia di Versailles. Questa villa ha avuto negli ultimi anni, negli ultimi 50 anni, un po' di disavventure, pensate che negli anni 50, 1950, venivano a Collodi a visitare con la Lambretta, con la Vespa in bicicletta questa villa, qualcosa come 250.000 persone all'anno e che poi nel tempo non è più stata mantenuta, è calata, tanto da perdere in un certo senso la memoria. Questa villa è passata nelle mani di un industriale che fa parchi di logistica in tutto il mondo, lo dico, si chiama FBH di Milano, che alla fine si è convinto di fare un contratto e la Fondazione Nazionale Carlo Collodi ha acquistato materialmente la villa 20 giorni fa, 25 giorni fa, quindi sono qui a darvi questa notizia che una fondazione diventa proprietaria di la villa e abbiamo inteso insieme come riuscire in un percorso di tempo a dargli denari che in un qualche modo dovrà avere. Ovviamente di tutta questa operazione il Ministero è all'ordine del giorno e quindi abbiamo la certezza che in un qualche modo, essendo un bene così importante, ci aiuterà in questa iniziativa. L'acquisto rappresenta il primo tassello per il progetto del Parco Policentrico Collodi Pinocchio. Pinocchio è un simbolo della nostra Italia, è un simbolo della nostra Toscana nel mondo e credo che dovremmo lavorare sempre più tutti insieme, in sinergia, ognuno per quanto di propria competenza, per fare in modo che quel luogo, un luogo che tocca il cuore di tutte le bimbe e di tutti i bimbi, non solo toscani, possa essere sempre più accessibile, sempre più fruibile e iniziative come queste vanno esattamente in questa direzione. Il motivo per cui ho accolto con piacere l'invito di poter presentare questo ulteriore pezzo di strada da fare insieme, perché penso che questo luogo, il Consiglio regionale, debba essere un luogo sempre più aperto per far conoscere la bellezza dei nostri territori e quelle iniziative che vanno nel segno della ripartenza, di nuovo turismo e di nuove opportunità per i territori.